Avevano già caricato alcuni mezzi agricoli a bordo di un auto articolato con targhe straniere. Li stavano assicurando con dei tiranti quando le gentili commissariato di Vrea li hanno scoperti. Nello specifico si tratta di due trattori agricoli privi di targhe con numeri di tenaio a brasi, uno dei quali aveva agganciato una trinciatrice. Un altro furgone invece stava per essere caricato sul camion mediante l'utilizzo di rampe da carico mobili. Dalle accertamenti effettuati è emerso che i mezzi erano entrambi provento di furto. Erano stati rubati da una ditta agricola e presso una cascina privata. Tre persone sono state inseguite dai poliziotti, mentre altre due sono riuscite a far perdere le loro tracce. Sono tutti cittadini rumeni, rispettivamente di 56, 31 e 27 anni. Nei loro confronti sono stati messi tre fermi per i reati di ricettazione e riciclaggio. Grazie. Grazie.